Buonasera, allora riaccomi ritornata con un nuovo video, oggi vado di voice over, voglio mostrarvi la mia shower barra hair care routine dopo le 11 ore di turno di notte in tirocinica, chi mi segue lo sa, questo mese ho fatto il mio ultimo tirocinio in terapia intensiva neurochirurgica e noi appunto la notte facevamo 11 ore, attaccavamo presto rispetto agli altri reparti alle 8 di sera fino alle 7 della mattina dopo, questo mese ho fatto 9 notti, scusatemi, pardon, 8 notti ed è stata tosta, però ho cercato comunque di instaurare una routine prima di andare in tirocinio e post tirocinio. In questo video qui vi mostrerò fondamentalmente il post tirocinio perché comunque ogni volta in turno erano 11 ore toste dove alla fine non trovavi manco a volte il tempo di sederti, fare una pausa o comunque sia al massimo era davvero solo sedersi. Ovviamente l'ambiente è molto particolare rispetto a tutte le altre reparti che però mi è piaciuto, nonostante la fatica, mi è piaciuto veramente tantissimo. Dopo 4 ore di dormita la prima cosa che ho sempre fatto soprattutto nell'ultimo periodo di tirocinio era farmi una doccia. Qui ci sono io che faccio la doccia e anche colgo l'occasione per presentarvi questi prodotti di Shampora. Infatti questo video è proprio in collaborazione con Shampora, loro mi hanno inviato gratuitamente i prodotti che vi faccio vedere. Il primo è questo shampoo che in realtà la formula proprio di questo shampoo qui è stata creata appositamente per me. Diciamo che l'obiettivo che volevo raggiungere con questi prodotti erano lucentezza, avere comunque uno shampoo antigrasso, anche morbidezza sui capelli e idratazione. Dopo lo shampoo ovviamente non poteva mancare il balsamo, mi hanno anche inviato questo balsamo che tendenzialmente metto sulle lunghezze e comunque sulle punte dei capelli. Favoloso, favoloso. Cioè la prima cosa che si nota subito con questo shampoo e balsamo è la morbidezza e la leggerezza che poi avete sui capelli. Cos'ha di particolare questo marchio? Come avete visto i prodotti non solo perché sono stati inviati avevano il nome personalizzato, ma praticamente quando andate sul sito potete andare a personalizzare sia la confezione, che ci tengo a dire che è riciclata al 100%, e anche ovviamente la formula dei vostri prodotti. In base a un algoritmo che fondamentalmente potete praticamente crearvi la vostra formula secondo un algoritmo, voi andrete a rispondere a determinate domande e ovviamente loro vi creeranno proprio la formula più adatta a voi. Potete scegliere anche delle profumazioni insomma. E devo dire che a me le profumazioni piacciono tantissimo perché non sono per niente forti, sono molto molto delicate. Questo qui che vi faccio vedere invece è un altro prodotto che è praticamente una sorta di crema che si chiama Live In. Voi mettete una noce sulla mano e l'applicate direttamente sui capelli o bagnati o comunque umidi. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere all'interno di questo video si chiama Active Water, che è una sorta di vaporizzatore diciamo così, voi andate a vaporizzare sul capello direttamente, che sia bagnato o anche da asciutti, anche se sono sporchi, aiuta tantissimo. Cioè io per esempio lo metto solamente quando gli ho bagnati i capelli e poi anche il giorno dopo da asciutti e rende i capelli davvero davvero super morbidi. Cioè è una cosa incredibile. Una cosa che mi piace tantissimo di tutti questi prodotti e della combo di tutti questi prodotti qui è sicuramente la morbidezza e la leggezza che ti dà il capello. Io ho il capello molto ma molto pesante, forse non sembra. Ho davvero il capello pesantissimo, fa fatica proprio ad asciugarsi, ma nel momento in cui li asciugo davvero i capelli sono morbidi, leggeri. Ho cercato di fare una ripresa dove si vede, spero, nella maniera più naturale possibile insomma come sono i capelli perché sono davvero leggeri. Io sono veramente contenta e grata di questa collaborazione. Qui vi faccio vedere comunque l'unboxing che avevo fatto, vi mostro tutti i vari prodotti, soprattutto perché mi hanno contattato conseguentemente al video che avevo fatto sui miei consigli per salvare il pianeta. Sapete che ormai io mi sono un po' spostata nel mondo diciamo green, eco-friendly, ecosostenibile per quel che mi compete, per quel che io posso fare per aiutare il pianeta. La cosa che mi ha subito colpita insomma di questo sito qui è stato sicuramente il fatto che loro ci tengono tantissimo appunto all'ambiente, il fatto che tutti i prodotti sono stati realizzati con materiale riciclato. E ovviamente il fatto che loro creino la formula quindi la formula più adattata è diciamo che in un certo senso aiuta anche a risparmiare la creazione di determinati prodotti perché se voi lo richiedete questo prodotto viene creato. Non vengono creati prodotti tutti uguali, ok? Sono diversi, in base alle domande a cui voi rispondete all'interno del sito i prodotti appunto sono sempre diversi e ovviamente creati appositamente su richiesta. Qui vi faccio vedere anche il sito ovviamente voi andate e potete creare tutti i vostri prodotti, non siete obbligati a comprare tutti i prodotti ma anche solamente uno o due prodotti. Anche se io vi consiglio vivamente se non volete prendervi lo shampoo ma il balsamo e il leave-in, quella crema che voi applicate dopo senza risciacquo è incredibile. Cioè sono i miei due prodotti in assoluto preferiti. Un'altra cosa che ci tenevo a dirvi che non vi ho detto prima è che non fanno tanta schiuma e questo è un bene, è veramente un bene. Voi ovviamente potete personalizzare il tutto inserendo il vostro nome, io poi adesso vi farò vedere anche la clip dove fondamentalmente vi faccio vedere il mio profilo e qua voi potrete riordinare il vostro prodotto oppure ricreare una formula nuova insomma, in base alle vostre esigenze. Ovviamente loro mi hanno anche dato un codice sconto da darvi che vi lascio in sovraimpressione, vi lascio anche nell'info box. Mi hanno anche detto di dirvi che potete anche iscrivervi al loro sito e fare le consegne ricorrenti. Con l'abbonamento, con il vostro primo acquisto avrete appunto un ulteriore 20% di sconto, però comunque già con il mio codice sconto avrete 7€ di sconto, però con l'acquisto di almeno due prodotti. Niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto sia stato utile, insomma spero di avervi fatto scoprire un marchio che io onestamente prima che loro mi contattassero io non conoscevo minimamente. Sono contenta davvero di aver collaborato con loro sia per il concept e sia per la ottima qualità dei prodotti. I prodotti non costano poco, però per me ne vale veramente la pena. Se avete voglia di provarli, insomma fatemi sapere, fatemi sapere se li proverete e niente. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Shampora. Scusatemi la rima per questa collaborazione e se vi fa piacere vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi in tutti i miei vari social. Io vi mando un bacione e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Cheers! Vi faccio vedere quest'anteprima. Oddio! Che bello! Cioè con il mio nome poi mi insega bellissimo! Ciao!